La giustizia più vicina ai cittadini. È questo lo slogan che accompagna gli uffici di prossimità. Sono dieci quelli aperti in Toscana e altri seguiranno. Si tratta di un servizio gratuito offerto dai comuni che hanno messo a disposizione spazi e personale adeguatamente formato e da Regione Toscana che invece ha fornito strumenti e risorse. Sono i comuni i protagonisti veri di questa progettualità e non hanno certo la pretesa di sostituirsi al sistema giudiziario ma ne integrano e ne alleggeriscano gli elementi più semplici, quelli che rivolti ai cittadini meno strutturati, meno portati ad accedere per le vie ordinarie, a uffici legali o a procedure più complesse. La chiusura delle sezioni distaccate dei tribunali aveva lasciato un vuoto, soprattutto nelle aree interne e periferiche, sempre più oggetto di nuovi interventi di inclusione. Un vuoto che sta per essere colmato. Per l'assessore regionale Stefano Suofo si tratta di una scommessa che potrebbe essere vinta nell'arco di due anni, anche grazie al processo di consolidamento delle infrastrutture digitali. Far sì che ogni parte della Toscana possa godere degli stessi servizi, far sì che ogni comunità abbia la percezione che le istituzioni, dallo Stato, con le sue forme più importanti, ma la sanità e la giustizia sono senz'altro questo. Dopo Poppi, Sansepolcro, Empoli, Firenze, Pontedere e Pontremoli, stavolta ad aprire al pubblico è stato l'ufficio di prossimità di Capannori, il primo in provincia di Lucca. Già inaugurato un anno fa, l'attività era stata sospessa a causa della pandemia. A seguire si aggiungeranno presto anche gli uffici di Montepulciano e Montevarchi. La sperimentazione inizierà con le istanze che riguardano gli amministratori di sostegno, ma tra le altre cose si potranno ricevere informazioni e assistenza sull'istituto di protezione giuridica, sui servizi alla volontaria giurisdizione, sulla predisposizione di atti e molto altro ancora. Questo alleggerirà anche l'attività dei tribunali. Basti pensare che con 5.000 istanze l'anno il Tribunale di Lucca è secondo solo a quello di Firenze. La pressione sulla cancelleria è notevole, specialmente in un periodo così complesso come quello attuale in cui il Covid rende anche necessario contingentare gli ingressi e quindi limita di molto anche la possibilità concretamente di far accedere le persone in tribunale. Quindi da questo punto di vista avere degli uffici sul territorio potrebbe aiutare anche a sgravare di molto il numero di accessi al tribunale e quindi anche il lavoro della cancelleria sicuramente. Negli ultimi due anni gli uffici di prossimità della Toscana hanno ricevuto più di 1.100 telefonate, accolto 742 utenti e depositato circa 300 atti, numeri destinati a crescere grazie all'apertura dei nuovi presidi, a cominciare da quello di Capannori che, come ha ricordato il sindaco, considera la sede comunale come la cassa dei cittadini. Andiamo ad ampliare quella che è la rosa dei servizi che i cittadini possono trovare all'interno del comune, servizi non solo comunali in senso stretto ma anche di altre istituzioni e in questo caso si sta parlando del tribunale, ma in questo comune l'altro servizio è lo speed che ha sempre a che fare con la regione, quindi quello dei pagamenti, ma l'altro per esempio noi con l'attivazione anche dello sportello comune amico, l'obiettivo è quello che i cittadini trovino qua risposta alla maggior parte delle esigenze che hanno. Quello dell'ufficio di prossimità è un servizio accessibile gratuitamente a tutti tramite appuntamento, sia telefonico sia online. Contestualmente nel giorno della nuova apertura dell'ufficio a Capannori è stato inaugurato anche il servizio, anch'esso gratuito, per l'ottenimento dello speed, ormai necessario per interfacciarsi con la pubblica amministrazione. Il comune di Capannori come primo comune della regione toscana farà gratuitamente lo speed ai cittadini, quindi il cittadino sempre su appuntamento potrà venire all'URP e i nostri operatori lo assisteranno in una pratica che è anche abbastanza complessa e sarà possibile attivare appunto lo speed a partire da oggi e anche questo è un modo per cercare di essere il più vicino possibile ai cittadini. Grazie a tutti.